PAPERORA 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 Buongiorno ragazzi Come state? Padre, le posso fare una domanda? Un pochino ad alta voce, Cristian Posso farle una domanda, padre? Prego Che cos'è l'universo? L'universo è come un orologio in cui le particelle si muovono a velocità cronometrica quasi a svelare l'incanto di questa perfezione assoluta che soltanto il buon Dio poteva donarci E' uguale! Poi devi uscire, devi uscire, io ti faccio l'Ave Maria Devi rifare la sigla perché quando andiamo via, dai Ave Maria, grazia plena Ave Maria, grazia plena San Oh, vieni qua, vieni, vieni Mamma mia Facciamo il balletto Il balletto? Il balletto del barodalto È quello, dai È nato qui È nato qui Dai Non me lo ricordo Adesso te lo ricordo Pronto? Vai Mai Do Sam Van 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 When the city wrasse low on Broadway When the city wrasse low today Che state facendo? Scusi Che delusione Bella figura del merda Padre, grazie ancora per il meraviglioso pensiero No, grazie per il pensiero, siete veramente carini